e bella a tutti ragazzi bentornati al mio canale quest'oggi siamo su un nuovo video e raga siamo sul post MotoGP test di Valencia del 2019 gli ultimi test del 2019 è molto probabilmente l'ultima volta che i piloti saliranno su una MotoGP quindi raga dominio Yamaha in questi test di Valencia primo c'è Maverick Vignares poi Fabio Guartarello e poi Franco Morbidelli qui vi metto qui o qui non lo so vi metto la classifica di tutti e 23 piloti che hanno girato in questi due giorni perché se non mi sbaglio Danilo Verrucci ieri oggi non ha girato però ieri ha girato comunque mancava anche Michele Olivera e Pecco Bagnaia mancava quindi ne mancavano un po' i protagonisti e c'è il debutto in onda però non anche le C ma LCR di Lucio Cecchinello di Alex Marquez davvero davvero tantissima roba secondo me raga dei test davvero davvero belli sono stati dei test belli grazie a un ragazzo che sono riuscito a vedere i test perché se no non li potevo vedere quindi raga davvero la Yamaha ha stradominato in questi test io spero che anche la stagione 2020 spero che sia politica per la Yamaha e soprattutto per Valentino Rossi vediamo cosa farà Maverk Vignares e vediamo soprattutto cosa farà Fabio Guartarello perché sarà equipaggiato con tutti 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 i pezzi della Yamaha ufficiale della Yamaha Factor quindi staremo a vedere anche Franco Morbidelli sarà equipaggiato di tutte queste novità quindi io spero davvero che faranno bene sia Guartarello che Franco Morbidelli ma soprattutto anche Valentino Rossi e Maverick Vignares speriamo che riusciranno a battere Maverick e vabbè speriamo che riusciranno a battere Mark Marquez e ci sarà l'incognito Alex Marquez non so come farà se farà bene se non farà bene questo non lo so di raga però è lì staremo a vedere e poi Ducati leggermente in difficoltà sono leggermente in difficoltà spero che riusciranno a fare quello step in avanti che gli manca lo spero davvero tanto 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 che dire ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like fatemi sapere questo documento vostro iscrivetevi al canale attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi bella ragazzi